dove viene tutto. Allora cosa devo dire che noi insomma tramandiamo, conserviamo, diffondiamo la tradizione del suono delle campane soprattutto manualmente e soprattutto con le tecniche di suono che abbiamo qui in Italia. Io sono Don Francesco Ferro, ho un centro studi campanologici che collabora e sta diciamo in sinergia, in collegamento con diverse associazioni di suonatori di campane italiane, soprattutto la federazione campanare bergamaschi di cui sono socio onorario e che appunto suonano le campane e nei loro campanili che hanno sempre almeno minimo 5, poi 8 soprattutto 8, 10, 12 campane buonano con questa tecnica che è la tecnica a tastiera, appunto come si vede davanti a me io ho una tastiera con 8 note, questi tasti sono ciascuno collegati a tramite dei racconti a battaglia di una campana. Quindi 8 note, un'ottava completa e dobbiamo ringraziare l'amministrazione qui di Pietimontri San Germano che quest'anno in occasione del Natale ha voluto appunto offrire alla popolazione un saggio di cultura campanaria facendo girare queste campane e dando la possibilità anche di far sentire quelle melodie natalizie che si diffondono ecco a mezzo delle campane itineranti in questo progetto che è note di Natale e appunto inserite anche queste 8 campane qui grazie a tutti Grazie a tutti.